amiche ed amici digi case benvenuti o bentornati sul nostro canale youtube io sono stefano ed eccoci qua come tutti lunedì a mostrarvi una delle nostre case in questo caso in anteprima esclusiva quindi non ancora in pubblicità siamo a san lorenzo di rovetta vi mostro la collinetta e il campanile di san lorenzo per farvi capire che siamo in un contesto assolutamente abitato come vedete zona di villette e di appartamentini ma siamo anche nella tranquillità di san lorenzo di rovetta in pochissimi minuti si arriva assolutamente al centro di rovetta ma già san lorenzo abbiamo tutti i servizi necessari e quello che vi voglio mostrare oggi è una villettina cielo terra ma dove lo faccio vedere da qua ecco l'appartamento la villettina si sviluppa così e l'ace già il tuo tetto quindi è una villettina a schiera quindi c'ha le pochissime spese condominiali perché c'è il corsello dei box poi quando ci chiamerete vi darò tutti i dettagli ma quello che vi mostro oggi è assolutamente una villettina tutta abitabile sopra sotto con quello che vedete all'ingresso un una zona giorno davvero molto carina adattissima per la seconda casa come vedete c'è anche un bel cammino angolare qui all'ingresso la zona della televisione anche se la televisione è un po' piccolina ma potrebbe essere messa sicuramente una televisione più grande un bel una bellissima cucina angolare guardate anche le travi a vista vi ricordo che la casa chiaramente è con riscaldamento autonomo metano un divano letto qua ed eccoci qua al tavolo noi lo abbiamo già imbandito vi regaliamo qualche fiore da vedere proprio perché ci sentiamo così belli luminosi come i fiori e soprattutto come l'estate che ci stiamo godendo in questo periodo e guardate il sole che picchia nel giardinetto sul retro ve lo faccio vedere subito poi proseguiamo con la casa perché il giardinetto dietro dove siamo proprio ad est è uno spettacolo come sentite stanno passando ora a pulire le strade perché è mattino davvero presto e questo è il giardinetto il giardinetto assolutamente privato esposto a destra vedete il sole dov'è vi fa tutto quest'arco e poi vi tramonterà sul giardinetto davanti che in questo momento è un pochino adibito a siepi loro hanno preferito lasciare tutta la situazione con queste con questi arbusti ve li faccio vedere nuovamente per farvi capire un pochino la situazione però può essere utilizzato chiaramente come come questo giardino quindi noi abbiamo questo che è identico che loro adesso hanno messo questi aceri questi cespugli sempre verdi e poi avete una vista davvero meravigliosa il sole vi tramonterà proprio di qua dietro da questa parte dall'ingresso quindi eccola qua nuovamente la la villettina quindi soggiorno con angolo cottura molto vivibile molto carino con questa uscita diretta sull'altra parte del giardino come vedete molto molto bello luminoso adesso va tagliata l'erba ma è assolutamente un bel un bel giardinetto ed eccoci qua al bagno il bagno abbiamo waterbidei lavandino vedete la bella finestra che dà sempre a test ed ecco qua dove c'è l'orchidea abbiamo un bel box doccia e l'attacco della lavatrice con il suo mobiletto la casa viene data esattamente come la vedete quindi viene data arredata proprio come la vedete qua poi c'è anche un mobiletto vi faccio vedere che fa da ripostiglio guardate che bello per il ricovero scope eccetera eccetera qua ci sono altre altre mensoline poi qua c'è questa cassettiera può essere ovviamente personalizzata poi da voi ed eccoci qua ancora alla zona giorno e al suo bel camino su di sopra non è classico nostro sottotetto questa è proprio una parte totalmente abitabile altissima guardate vi faccio già vedere le altezze perché al colmo si supera ampiamente penso i 3 metri e 50 ed eccola qua questa è proprio adibita come fosse un'unica grande camera quindi accatastata come camera matrimoniale gigante ma chiaramente potreste anche dividerla perché vedete dove c'è il colmo dove c'è questo armadio potrebbe essere tranquillamente divisa eccola qua la camera matrimoniale con questo bel laminato a terra da qui si guarda verso il giardinetto che ve lo faccio vedere dall'alto così vi rendete conto di com'è quadrato e la vista che c'è verso san lorenzo e verso la c'è son gavazzo vedete eccola qua la sua bella camera con la sua cassettiera quello è un armadio che fa la divisorio ma vedete è la richiama proprio perfettamente potrebbe essere chiusa questa camera c'è la sua finestra e quest'altra camera che loro hanno adibito come salottino e come camera degli ospiti all'occorrenza potrebbe essere chiusa chiaramente con quest'altra finestra che vedete che guarda di qua verso clusone verso san lucio guardate che bella la vista che c'è da qua posto davvero unico residenziale ma tranquillissimo da qui partono delle bellissime camminate ma anche delle piste ciclabili che portano poi a clusone al centro di rovetta mi soffermo un attimo per farvi cogliere l'altezza e la bellezza di questa villetta perché vi ricordo che non avrete nessuno sopra nessuno sotto 98 mila euro compreso di box davvero un'occasione per rovetta venite a vedere anche solo la posizione perché tanti non si rendono conto siamo qua sull'alto piano e quindi ci tengo che veniate ad assaggiare se non conoscete la zona la posizione di questa casa che in via maninetti a san lorenzo di rovetta ora però voglio farvi vedere anche il box quindi venite con me eccoci qua ritorniamo nel giardino vedete che c'è il suo cancellino d'ingresso da lì da lì c'è il cancello carrale e il cancello pedonale quella è la via maninetti come vedete non siamo in una zona caotica quindi dal cancello elettrico si scende e si va sembra di andare in quel pratone meraviglioso invece arriveremo alla zona box vi faccio tutto in presa diretta così riuscite a rendervi contanti vi arrivo lì per farvi vedere la posizione i prati immaginatevi anche il vostro amico a quattro zampe che può venire qui con voi farvi una passeggiata vedete che c'è una specie di sentiero qua che vi porta poi di là verso il centro di san lorenzo e via nei nei boschi questo è l'altopiano di clusone quindi davvero in un attimo si arriva a rovetta fino del monte a clusone ma abbiamo la possibilità a piedi di eccoci qua qua entriamo nell'autorimessa che vedete c'è l'idrante per visi del fuoco si accendono automaticamente le luci scusate se ci sarà un po buio adattate gli occhi questo invece illuminato è il box crete un box singolo ma davvero davvero capiente si vede forse a terra lo sporco dato dalle prime ruote quindi la macchina c'entra comodamente sotto in fondo hanno messo una loro scaffalatura e poi chiaramente abbiamo uno spazio di manovra che supera i 6 metri quindi davvero comodo ed eccoci qua usciamo nuovamente al sole per darvi riferimenti finali eccoci qua allora 0 3 4 6 2 3 9 3 3 per chiedere informazioni per questa villetta in anteprima esclusiva a 98 mila euro compreso box e arredo a san lorenzo di rovetta via maninetti io sono stefano 3 2 0 0 3 3 4 3 3 2 se volete scrivermi un whatsapp e chiedervi informazioni immediate e venire a vederla intanto che siete a casa in vacanza vi aspettiamo tutti i giorni compreso sabato e domenica mattina quindi davvero non mancate un caloroso saluto da me da tutto lo staff di casa e buona settimana a tutti